bella a tutti ragazzi dal vostro shop 79 oggi continuiamo con il nostro progetto di sponsorizzazione degli altri canali per far vedere i canali youtube dei ragazzi anche quelli più piccoli con i giovani quelli che sono emergenti ci sono tanti canali che sono veramente cagliardi allora oggi cominciamo con il canale di nico fico gamer 12 allora quanto è figo nico fico perché uno che si chiama nico fico e poteva essere solo troppo forte allora guardate qua che vi faccio vedere questo è il suo canale questo è i video caricati vedete guardato questo l'ho visto prima è matto fracico pure lui vi fa tagliare le risate vedete come sono fatti bene con la musichetta l'intro è bellissima ecco vedete troppo forte quindi allora questo era il canale di nico fico gamer 12 mi raccomando iscrivetevi mettete mi piace ai suoi video e seguitelo perché non serve solo iscriversi e poi ciao ci siamo visti capito adesso passiamo al secondo canale questo non riesco a pronunciarlo sono sicuro questo è goz rino e giarsesi speriamo di averlo pronunciato bene se non ho fatto un'altra figura di merda anche perché potrebbe essere anche goz rino e giarsesi e giarsesi non lo so non capisco però eccolo ok ragazzi poi io visto che questi sono nomi che magari è dopo vi metto i link sotto quindi controllate i link sotto al video di ogni canale per andare a iscrivervi questo è il loro canale questo è il suo canale mine city guardate facciate un video vi facciate sempre l'anteprima di un video un pezzetto vedete la musica vi fanno da ya perché quando giocano praticamente questo fanno una gacciara quindi ragazzi mi raccomando iscrivetevi al canale mettete mi piace seguitelo guardate i video di goz rino e giarsesi adesso vi faccio vedere se vi passa un altro canale passiamo al canale di bomba atomica questo è un altro che mi ha fatto a ya praticamente vi faccio vedere qualche video c'è di questo di wolfstein questa è la intro bellissima musichetta questo è il video vedete il video è un po laggoso ma tanto poi quindi ragazzi questo è il canale di bomba atomica mi raccomando questi sono i suoi video iscrivetevi tutti quanti al canale mettete mi piace e seguitelo adesso passiamo all'altro canale questo è il canale di nemesis drapawi vedete un altro canale anche lui matto fracico suo ragazzo questo ragazzo è un altro talento io metterei mi piace solo per la faccia da matto che c'ha a volte me lamento io che ho la faccia da psicopatico guardate lui la faccia da psicopatico comunque anche lui usa la web ram fai video con amici c'ha abbastanza video ecco eccoli ha fatto un sacco di video pure lui vedete ce ne ha tantissimi sul canale questo è un ottimo canale mi raccomando iscrivetevi nemesis drapawi mettete mi piace e seguitelo adesso si cambia canale andiamo a vedere allora questo è un altro canale questo è il canale di nerds allora io non è che c'ho le preferenze anche perché quando fai sponsorizzazione uno sponsorizza tutti i canali che hanno bisogno di iscritti tutti i canali emergenti però devo ammettere da youtubers perché io so anni che faccio video non lasciate perdere che il canale questo che c'ho è nuovo devo dire che questi sono proprio due professionisti uno perché te fanno ammazzata le risate i video sono montati benissimo c'è un sacco di tempo per montare un video così per registrare per frappare per giocare e tutto il resto cioè io lo so benissimo che significa e quindi loro ci mettono molto molto impegno a me questi piacciono tantissimo mi raccomando iscrivetevi a questo canale mettete mi piace ai video guardatevi lì guardatevi lì tutti perché me lo sono visti tutti dal primo all'ultimo come sono spappolato da delle risate per me questi due diventeranno più famosi di 5vj sono due miti ok va bene ragazzi secondo video di sponsorizzazione ho sponsorizzato 5 canali vi ricordo nico figo gamer 12 goz rhino e giastesi bomba atomica nemesis drapawi e nerz ok questi sono i 5 canali che vi linko sotto vi metto i link per andare senza che vi metterà a cercarli perché è difficile alcuni ok va bene ragazzi questo video finisce qui ci vediamo al prossimo video il prossimo video sarà di gameplay datevi tre giorni di pausa poi ricominciamo con le sponsorizzazioni bella a tutti ragazzi dal vostro shop che vi saluto con un bacio e ci vediamo al prossimo video ciao belli mettete mi piace mi raccomando ciao 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 ciao